Oggi, 23 maggio, è la giornata mondiale delle tartarughe e proprio questa mattina, poco prima delle 7, a Portopalo di Capopassero, è arrivata la prima segnalazione della stagione di quello che potrebbe essere il primo nido di tartarughe caretta caretta sulle nostre coste, al servizio SOS Tartarughe Marine di Lega Ambiente. A segnalarlo il signor Luigi Antonio Fabiano, che passeggiava con il suo cane sulla spiaggia. Lega Ambiente ha quindi attivato subito tutte le procedure per verificare l'effettiva presenza del nido e attivare la sua messa in sicurezza, avvisando la Capitaneria di Porto e la sezione locale del WWF. Quasi il 70% delle tartarughe è in pericolo di estinzione, ma altrettante tartarughe terrestri corrono lo stesso pericolo. Inquinamento, pesca e caccia sono le principali cause di questo sterminio incontrollato. Chiaramente sono tutte azioni derivate dall'uomo ed è appunto l'uomo che deve porre rimedio. Celebrare la giornata mondiale delle tartarughe è un modo per dire basta a queste ingiustizie, un modo per dare voce a questi animali, cercando per quanto possibile di proteggerli e aiutarli.